Grazie, è gentilissimo Grazie Grazie, è perché vogliamo fare una foto con il telefono Mi piace il perivide? Vamo così, eh? Per forza Grazie Ciao Ciao Che spettacolo Oddio Ciao Primer per Malusi Però io comunque lo rispondo perché secondo me, ripeto, fa contenuto È divertente, ci si fa una risata su, vediamo L'hai eliminato per la chat Esatto Tu lo vedi comunque Sì, sì, lo leggi Comunque Su quel che è, rimane Sì, esatto Spettendo Perfetto, grazie Buona fiera Grazie Grazie Perfetto 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 Buona giornata Grazie Perfetto 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 ho alzato le lacrime con le orecchie stavo morendo questo lo ho preso a Laverna al santuario di San Francesco Ringo Dash No, Ringo Dash No, non mi gaga No, è un signor e mi piace nell'anno e mi forse vado a ritmarci rinforzare e mi seguo e mi arrivo a dire Grazie.